Hello my fellow hikers! Domenica dovevo essere in compagnia ma in realtà solo da solo. Ho il ginocchio ancora pozzifolo, ho deciso di fare questa gita un po' tranquilla, vedere le cascate del serio che le aprono e poi vado su al curò a pranzo. Questo sentiero qua non l'ho mai fatto perché l'ho fatto sempre dall'altra parte, 305 se non ricordo male. Come potete vedere qua è bello all'ombra, ideale per l'estate, dovrebbe essere sì 400 di livello arrivare alle cascate, 500 al curò mi sembra. Dai, stay tuned! Devo dire che c'è veramente la carovana che va su a vedere le cascate. Stanno chiudendo, intanto procedo per il curò, avanti! Stanno chiudendo, stanno chiudendo, stanno chiudendo, stanno chiudendo. bella ragà sono arrivato gli altri non si sono fatti sentire adesso non so neanche se prende però vabbè Vabbè, pausella, pranzella, stay tuned. Ho finito di mangiare, eravamo quattro persone che non ci conoscevamo, al tavolo è stato piacevole e siccome è un po' presto non avevo voglia di tornare, raggiungo ancora il lago naturale, Barbellino, per stare un po' in natura. C'è il lago che non so se avete visto, ma è bello prosciugato. Andiamo oltre. Ragazzi, eccolo di nuovo, le bestie che c'erano un'altra volta. Ecco il rifugio del Barbellino che sembra tra l'altro aperto. Mi farò un buon tè verde se ce l'hanno. Pausa fatta, si torna alla macchina. Bella lì, un'altra grandinata, yes! Eccoci ragazzi, eccoci alla macchina. In realtà anche a prendere un po' d'acqua può essere un po' piacevole, è sempre natura. Certo poi in generale è il temporale con i fulmini che non mi piace per niente. Il ginocchio è retto bene, quindi molto bello. Le cascate ho saputo che poi le aprono anche di notte. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale. Stay tuned!